Buonasera, siamo al torneo Città di Desenzano con il mister Filippini. Abbiamo visto un'ottima organizzazione di gioco, forse un po' lenti nel primo tempo, o almeno così sembrava dalla tribuna. E poi, cos'è cambiato? Ma è cambiato soprattutto l'atteggiamento del possesso palla nostro, nel senso che nel primo tempo in effetti facevano girare molto più lentamente la palla, anche perché venivano da due risultati negativi e quindi un po' di paura, un po' di tensione. Poi nel secondo tempo ci ha agevolato anche il fatto che il campo, la prima umidità, la palla scorreva meglio e quindi siamo stati bravi comunque a sfruttare bene le nostre occasioni. Ecco, tra l'altro abbiamo visto un mezzo Corona che curava zona anche sui calci d'angolo, però non siete riusciti a sfruttare alcune opportunità magari sui calci d'angolo, sui colpi di testa? Sì, in effetti abbiamo battuto diversi calci d'angolo e punizioni e si sa che nel calcio di adesso sfruttare le palle inattive ti fa fare il salto di qualità. In effetti potevamo fare qualcosa di più anche perché loro disposti a zona, se tu vai a saltare a tempo giusto li puoi mettere in difficoltà. però tutto sommato credo che sia stata una bella partita e la gente si sia divertita. Sicuramente, dalla tribuna è stata un'ottima partita. Grazie a Mr. Filippini. Grazie mille.